è notte sulla scacchiera l'uffi a pugni si scatena kai do drago viene suonato big mom è sbigottita tutti sono impressionati infine il kirfor finisce ma sul tetto d'onigashima ci sta ancora la mammona che cerca di colpire il nostro capitano ma pronto zoro il suo vice lo porta al sicuro zoro intergione e poi lo con il counter shock e infine kai do piano si riprende scatena la tempesta ma poi zoro lo taglia e ferisce zoro salva di nuovo il suo capitano il cp0 che fa il bilancio kai do ibridora si presenta ma com'è che finirà si saprà dopo po di bo di bo di bo di bo bum